la finestra capita di affacciarsi alla finestra con malinconia e chiedersi che senso ha nel mondo questa vita mia guardi fuori e vedi un mondo grigio che non ti dà neanche un briciolo di auspicio da dietro quella finestra puoi vedere che fuori piove da qui puoi vedere ingiustizia in ogni dove dalle persone che fanno uso di violenza per tentare di prendere con la forza ciò che gli hanno tolto molto spesso per disperazione ma passando dalla ragione al torto fino a quelli che non hanno da mangiare a sufficienza che sono costretti a mandare i loro figli a lavorare invece di poter passare la loro infanzia liberi a giocare da quelli che la libertà la sconoscono perché lì dove vivono non si può contestare esprimere o parlare senza che qualcuno possa la loro vita salvaguardare fino a quelli che sulle spalle d'altri s'arricchiscono riuscendo con più cento sutterfuggi e inganni a toglier loro i risparmi presi con più di mille sacrifici e affanni ma a quella finestra ho capito che è inutile stare fermi lì davanti perché se si vuole il mondo lo si può cambiare uscendo lì fuori che sembra tutto grigio e nero con la forza di volontà dentro di noi puoi plasmare questo mondo vuoi e così fuori da quella finestra apparirà l'arcobaleno grazie a tutti grazie a tutti